Il benessere psicofisico, la salute e lo star bene con se stessi sono sempre più fattori decisivi di una vita frenetica in cui fermarsi diventa quasi impossibile. Sempre più imprescindibili in questo contesto sono allora gli istituti e i centri qualificati in cui la professionalità sia non solo certificata ma anche innovata e approfondita. Il caso di Suavitas ad Andrea, un istituto di bellezza ed estetica che da 13 anni cresce, si specializza e si rinnova offrendo anche un importante presidio medico certificato. Con grande soddisfazione perché abbiamo visto crescere il nostro pacchetto clienti soprattutto nel momento in cui ogni anno c'è sempre l'inserimento di qualcosa di nuovo che è uno dei punti di forza del mio istituto perché mi piace sempre essere all'avanguardia sapere che le mie clienti appunto possano sempre contare su qualcosa di nuovo e non rimanere sempre negli stessi trattamenti, negli stessi macchinari ma la cosa importante è soprattutto che appena la cliente o il cliente si affacciano nel nostro istituto possano respirare effettivamente un'aria fuori dal comune. Alla scoperta dell'istituto di Via Lama Paola ci guida proprio Angela Scarcelli, mentore di questo progetto in cui sin da subito si è scelto di privilegiare a 360 gradi il benessere psicofisico delle persone e per far questo si è puntato anche a uno strumento medicale come l'unica stanza del sale ad Andria certificata Aerosalmed, una delle oltre 150 sparse in tutta Italia consigliata dalla maggior parte dei pediatri per i minori ma adatto a tutte le età e con effetti assolutamente sorprendenti, ancora di più in un periodo come questo dove ci si proietta la stagione fredda. Questo tipo di dispositivo nasce per simulare all'interno di una stanza l'area del mare quindi praticamente durante lo studio che è stato fatto al Policlinico di Bari è stato visto che i 30 minuti di trattamento effettuati qui all'interno della stanza in realtà corrispondono a tre giornate di mare per il beneficio che viene dato alle vie respiratorie durante l'inalazione di 20 grammi di cloruro di sodio e 10 grammi di iodio che sono all'interno di una bustina che viene effettivamente distribuita all'interno del dispositivo. Nasce proprio per ripulire tutto l'albero respiratorio da germi e batteri quindi di conseguenza se ci sono focolai comunque di inizio raffreddori oppure inizio di catarri soprattutto a partire dai neonati fino a raggiungere l'età adulta come anche gli anziani c'è l'opportunità attraverso le proprietà benefiche naturali del sale e dello iodio di andare ad asciugare tutto ciò che effettivamente tende a proliferare all'interno dell'albero respiratorio essendo un dispositivo medico c'è l'opportunità di parlarne proprio con il proprio medico quindi con il proprio pediatra nel caso dei bambini o con il proprio medico di base nel caso degli adulti di conseguenza è una terapia che si può fare anche in affiancamento ad eventuali terapie farmacologiche ovviamente diciamo è un dispositivo medico dunque assolutamente certificato Sì è stato certificato nel 2012 al Policlinico di Bari dal dottor Gelardi quindi c'è stato proprio uno studio che è stato fatto all'interno di un reparto sono stati tenuti in osservazione 65 persone affette da diverse patologie e tutte queste problematiche che sono state poi osservate effettivamente grazie all'utilizzo della stanza del sale hanno avuto beneficio Masuavitas accanto ai tradizionali trattamenti di bellezza ed estetica ha scelto di aggiornare costantemente le tecniche per consentire ai clienti di vivere un'esperienza davvero unica e completa a guidarci in questo rapido tour è sempre Angela Scarcelli Il nostro centro è un marchio esclusivo Becos, quindi un Becos Club l'altro marchio presente nel nostro istituto è Olos e si orienta a tutti i clienti che desiderano il 100% dei prodotti naturali poi c'è il nostro marchio, il punto di forza per il marchio Makeup e Decoderm che è una linea di make up and care, quindi anche curativa quindi nel momento in cui ci si approccia al make up lo si fa anche per curare particolari inestetismi Proseguendo un po' nel viaggio in questo centro che cosa accade con questi macchinari? Sì, allora questo macchinario si chiama Snelle Soda viene utilizzato per il dimagrimento e il rassodamento muscolare Un altro punto di forza del nostro istituto è il laser diodo è un macchinario ad alta potenza, è in istituto da diversi anni con noi e soprattutto viene utilizzato per eliminare progressivamente i peli superflui Prima di cominciare qualsiasi trattamento estetico, viso o corpo utilizziamo sempre questa tecnologia si chiama BB Screen e a marchio Becos e sfrutta attraverso la bioimpedenziometria la capacità di attraversare i tessuti e rilevare le caratteristiche della pelle del viso e del corpo Uno dei macchinari particolarmente importanti del nostro istituto è la KRF che è una radiofrequenza indicata soprattutto per stimolare il collagene e l'elastina del viso e del corpo Un altro trattamento corpo di particolare rilevanza del nostro istituto è quello che effettuiamo attraverso l'onda d'urto Il macchinario è a marchio APG, appartiene sempre alla famiglia Becos e viene utilizzato in particolare per trattare i anestetismi da cellulite Il macchinario invece ad ultrasuono è uno di quelli che riscontra più successo all'interno del nostro istituto in particolare nel pubblico maschile e più giovanile perché è finalizzato ad effettuare la pulizia del viso che finalmente può essere fatta senza vapore e senza premitura Un istituto che raccoglie sempre più consensi, certificazioni e qualifiche Un istituto che vuole crescere ancora e continuerà ad accogliere i propri clienti in un'esperienza psicofisica totale Provare per credere